Ciao ragazzi, allora domani 16 dicembre parte il mio Red Friday sui videocorsi, ovvero dal 16 dicembre al 20 dicembre per 5 giorni tutti i miei videocorsi a metà prezzo. Però ci sono delle regole, non è che chi ha comperato un corso o due l'ha pagato a prezzo intero, oggi si vede altri che lo pagano solo a metà prezzo. Quindi ci sono due possibilità per utilizzare il Red Friday, la prima è se voi volete tutti gli otto corsi insieme, cioè fare tutta la serie degli otto videocorsi che vi ho allegato qui in questo post, allora potete utilizzare il Red Friday e pagarli solo il 50%. Il Red Friday è anche aperto a chi ha già acquistato magari 3-4 dei miei videocorsi e vuole completare la serie. Quindi non è valido per chi adesso magari ha deciso, dopo che tanto che aspetta, di acquistare un mio videocorso e vuole pagarlo il 50% e solo per chi li vuole acquistare tutti. Perché faccio questo Red Friday di 5 giorni? Perché dal prossimo anno i miei videocorsi li commercializzerà un'agenzia di marketing e di conseguenza non sarò più io che potrò decidere se fare sconti, se non fare sconti, il sistema di vendita eccetera eccetera. E lo faccio ancora per un altro motivo, perché mi piacerebbe chiudere l'anno con più persone che sapessero un po' tutte le cose principali che io ho stabilito in tutti questi anni, che ho trasferito ai miei allievi di cinofilia, partendo dalla cinofilia naturale, tutto il discorso sui cani da guardia, su come non farsi aggredire dal proprio cane, come gestire una coppia di cani non sterilizzati, come gestire la femmina dal momento della gravidanza fino allo svezzamento dei cuccioli, come individuare nella cucciolata quel cucciolo che farà la guardia, per non dire cosa bisogna applicare, ciò che ho sempre applicato io per ottimizzare i risultati dei cani da guardia. E quindi una cosa che voglio dedicare unicamente a chi se li vuole comprare tutti, chi vuole farsi una cultura cinofila completa. Magari persone che non hanno ancora i cani li avranno in futuro e guardando tutte queste ore di lezione passano ad essere persone che non hanno mai avuto neanche un cane di piccola taglia a diventare cinofili che se la possono cavare in tutte le situazioni. E' un grande anche vantaggio questo per chi in futuro, magari nel prossimo futuro, vorrà conseguire delle qualifiche, perché chiunque abbia conseguito delle qualifiche di educatore, di cinofilia naturale, consulente per cani da guardia, tecnico per cani da guardiani antilupo, ha dovuto studiare su questi videocorsi oppure in passato venire da me e pagare albergi, pagare trasferimenti aeree, navi eccetera. Questa è veramente l'occasione migliore, perché voi li acquistate in questi cinque giorni, li pagate a metà prezzo e poi saranno sempre quelli che vi serviranno come base di studio, quindi basterà poi fare un corso di un giorno, due, con relativo esame per conseguire la qualifica. Quindi in questi cinque giorni si concentrano veramente tanti vantaggi per voi, però non è per chi dice, ma dai, visto che costa solo il 50%, ne compro uno, no quelli no, anche perché se noi pensiamo quanto è poco il costo di un videocorso, di un qualsiasi di questi otto videocorsi nei confronti dei vantaggi che si possono ottenere. Pensate quante persone prendono un cane da guardia, sbagliano tutto e poi spenderanno non so poi quanti soldi per poter poi trovare una sistemazione o cercare di recuperarlo, spesso delle volte non ci riescono, dover ricambiare cane, oppure chi acquista un cucciolo è convinto che li farà la guardia e poi non li farà la guardia perché non ha valutato tutta una serie di cose che invece sono importanti. E tutti quelli che hanno acquistato magari un cane da guardia e man mano che sono andati avanti hanno visto che il cane da guardia la faceva sempre di meno perché non hanno rispettato alcune regole. Non parliamo poi quando un cane magari non va d'accordo con un familiare, quanti problemi nascono in quella famiglia. Il cane va d'accordo con 5 o 6 della famiglia e non va d'accordo con uno. Quindi cosa si fa? Si accontenta quella persona con la quale il cane non va più d'accordo e quindi ci si libera del cane oppure quella persona non uscirà più di casa perché il cane e lui non andranno d'accordo o che cos'è che si farà? O litigheranno in famiglia per decidere se tenere il cane o meno. Quindi il costo, parlo pieno, dei videocorsi era già veramente studiato per essere molto convenienti. In questi 5 giorni dal 16, quindi da domani, 16 dicembre al 20 dicembre, ve li potete comprare tutti o quelli che vi rimangono a finire la serie a metà prezzo. Ma queste sono le due opportunità che io vi offro. Quindi potete partire già da domani, vi alleggo tutte le istruzioni, ve ne parlerò in questi giorni. Importante che sappiate che lunedì sera alle 24 finirà questa grande opportunità che la considero il più grande regalo di Natale che vi potevo fare quest'anno. Bene, vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!